Da ieri è legge la legittima difesa, lei che opinione ha di questo provvedimento? Pessima. Pessima è l'ammissione del ministro dell'insicurezza che non è in grado di garantire la sicurezza dei cittadini e degli abitanti del nostro paese. È evidente che un governo che dica agli italiani armatevi per difendervi è un governo che ammette fatelo perché noi non siamo in condizione di difendere. Non so se poi lo fa per favorire qualcuno, per favorire la vendita di armi, non so come insinua qualcuno, non si può escludere nulla. Io so che è una cosa scellerata, che può aumentare il rischio di un'esplosione di conflitti armati nel nostro paese, che ci sarà la corsa alle armi. Detenere un'arma e portare un'arma è una cosa assai delicata perché si possono commettere errori gravi, si possono uccidere delle persone, si può passare un guaio, si vive più insicuri perché detiene un'arma in casa che ha la disponibilità di bambini e di ragazze e sappiamo quante lacrime di coccodrillo ci sono state in tragedie di questo tipo. È l'ennesima ammissione dell'incapacità di questo governo di garantire la sicurezza del nostro paese. Mi sembra quasi una dichiarazione confessoria questa legge.